Cosa stai preparando? E' un martelli, cardi gobbi, caprino e poi finiremo con del cioccolato al 100%. Un risottino! Quindi questo qui con che cosa l'hai mantecato? Solamente cardi gobbi, quindi una salsa a base di cardi, del burro e poi del parmigiano reggiano. Perfetto! Quindi lo andiamo ad impiazzare adesso. Questo che cos'è? Questo è carbone vegetale. Avendo un riso comunque dall'ampio utilizzo di latticini, mi aiuta poi a quello che è la digeribilità del risotto stesso. Una quenelle del caprino citato prima, che era già andata in mantecatura. E adesso? Un po' di cioccolato al 100%. Questo piatto è stato preparato da... Procolato Guido a Villa Somis.